felipe benvenuto al parma innanzitutto prima settimana d'ustuni l'ambientamento adesso iniziato il ritiro collecchio ti chiedo un po il primo impatto con la nuova realtà grazie sono stato bene ho trovato un ottimo gruppo trovate nuovi compagni diciamo mi hanno aiutato parecchio inserirsi e adesso soltanto penso solo lavorare per iniziare molto bene quest'anno conoscevi già qualcuno i tuoi miei compagni se non ricordo male sì sì ho avuto la possibilità di giocare con qualcuno quindi quello mi ha facilitato un po l'inserimento la trattativa per arrivare a palma è stata abbastanza rapida palma ti ha voluto quattro anni di contratto insomma è una società che ha dimostrato di avere molta fiducia in te sì sì quando ho sentito pietro non ho avuto dubbi ecco ho detto subito di sì e lui lui ha fatto in modo che che si facesse tutto facilmente ecco sarebbe bello se il palma diventasse come l'udinese in cui tu hai militato ha fatto europa hai giocato anche il champions league con la fiorentina insomma tante esperienze europee per te c'è un po la speranza anche di poter tornare in europa con questa maglia ma io credo che noi dobbiamo pensare partita dopo partita lottare e lavorare tanto e poi e poi alla fine si fanno i conti tuoi bisogni italiani giusto se arrivi di una famiglia italiana il doppio passaporto a mauri spera nel ritorno in nazionale cassano anche c'è un una piccola speranza sei ancora giovane insomma devi fare 29 anni di poter indossare per la prima volta la maglia azzurra dato che hai la possibilità di giocare non solo nel brasilia ma che in italia io io in questo momento non sono ci penso neanche ci penso soltanto a questa maglietta che 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 hanno dimostrato di volermi che mi hanno mi hanno fatto sentire importante di nuovo e quindi lotterò per loro ma senza pensare ad altro numero di maglia vorresti forse il 19 però sai che bisognerà faticare per averlo perché c'è una rifa infatti mi hanno detto c'è questa asta e cercherò di prenderla vediamo quale cifra sei disposto a sborsare per il 19 siccome è una cosa di beneficenza quindi chissà forse anche abbastanza vuoi lasciare un messaggio ai tifosi del palma che stanno guardando attraverso il nostro canale sono molto contento di essere qui con questa maglia e darò tutto me stesso per raggiungere gli obiettivi del palma buco l'uomo ciao grazie 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 grazie